ben ritrovati eccoci qua quindi questa mattina noi tiriamo fuori il nostro paialino e come potete vedere è morbidissimo proprio la carne si sfalda il nostro plume da porco proprio si la carne è proprio morbidissima quindi la cottura che vi avete visto fare in notturna con 82 gradi al cuore 90 gradi in camera una notte e il risultato è questo abbiamo un risultato ottimale per tutte quelle cotture che sono cotture lunghe oggi ho fatto questo potrei farmi gli ossibuki potrei farmi l'arrosto di vitello qui abbiamo veramente un calo peso molto molto ridotto l'importante da capire è proprio questo abbiamo un forno naturalmente una cosa importante qui abbiamo 700 watt di consumo di corrente quindi pochissimo riusciamo ad avere nel nostro ristorante però anche nella nostra gastronomia nella nostra macelleria ok un risultato gel un risultato perfetto